Eminenza, state lavorando con Papa Francesco ad una nuova Costituzione per la Curia Romana. A quali linee guida vi state ispirando e cosa potrebbe cambiare nelle strutture al servizio della missione del Papa? È giusto che dopo alcuni anni si faccia una ristrutturazione degli organismi della Curia, soprattutto per rispondere ai bisogni dei tempi, che cambiano anche. Ma anche perché nelle riunioni anteriori al conclave c'era questo desiderio, c'erano tanti suggerimenti. Noi stiamo seguendo una linea di esaminare ognuno dei dicasteri, di vedere le proposte che sono venute e fare delle raccomandazioni al Santo Padre. La redazione della Costituzione sarà posteriore quando abbiamo finito questa raccolta di tutti i suggerimenti. Dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, lui ha parlato sempre che la Chiesa è servitora, che noi siamo per servire e anche la Curia è per servire la Chiesa. Noi non siamo soltanto per fare una nuova Pastor Bonus, ma siamo per continuare a essere una specie di consiglio sui temi che lui ci chiede. Anche la riforma del Sinodo va in questa direzione. Non vuol dire che una volta finito il Sinodo è già finita la consultazione. Lui prevede che i membri del Sinodo continueranno nel periodo di tre anni, che possono essere anche consultati sul cammino. Dunque è anche un'espressione grande di più collegialità. Il lavoro del gruppo dei Cardinali prosegue naturalmente anche tra una riunione e l'altra in Vaticano. Può dirci quali stanze raccogliete dalle Chiese locali e dal popolo di Dio? Certamente, ognuno di noi ha i suoi compiti, compiti di scuola. Dunque facciamo una distribuzione dei diversi temi e ogni Cardinale nel suo posto fa la ricerca, fa anche la sistemazione, in modo che quando torniamo per un'altra riunione ci siano già documenti di lavoro su determinati temi. E questo è veramente una collegialità perché c'è una grandissima partecipazione di tutte le Chiese in tutti i cinque continenti. Segretario del Papa e non più segretario di Stato, come potrebbe cambiare il ruolo del primo collaboratore del Pontefice? Io penso che il primo collaboratore continuerà con le sue funzioni ad essere, diciamo, una persona in cui il Santo Padre può confidare e può dare impegni precisi. Quello che si voleva era non dare l'impressione che si tratta di un governo, come tale un governo civile dove c'è il primo ministro. Questo è ben diverso, soprattutto esaminando la storia all'inizio, incominciato come segretario del Papa. Dopo è passato con tanta evoluzione e tante anche riforme che sono venute posteriormente ad essere quasi come un segretario di Stato. Quello si è visto anche per la partecipazione di tanti cardinali che per i tempi attuali non è molto felice questo nome. E dunque si pensa in suggerimenti in questo indirizzo, segretario di Papa o segretario papale o vedremo. L'ultima novità, la Commissione per la protezione dei fanciulli costituita da Papa Francesco su proposta del Consiglio di Cardinali. C'è una necessità che si sente importantissima. Non soltanto le lamentelle perché ci sono stati questi problemi o gli altri, no. la prevenzione e questo veramente ci ha piaciuto tutti che si possa creare questa Commissione magari dentro della Congregazione per la Dottrina della Fede. È una continuità con un lavoro che è stato intrapreso da Papa Benedetto XVI con grande sforzo e con grande impegno e che adesso si vede come si può camminare grazie a Dio per prevenire queste cose. Grazie.